Quindi questo è il ponte e questa è la pista Grotte, una pista di collegamento che consente di passare dal Grostè fino ad arrivare alla Seggioia Finale. Questa è una strada, mi ha detto Rocco, una strada che percorrono le macchine durante la primavera d'estate. Attenta ai rami Luisa! Questa è una strada, mi ha detto Rocco, una strada che percorrono le macchine